Buongiorno 33 Calacri 35 Nights A disposizione del mondo numero 1 del conflitto 29 Sant'Uno 6 Paz 9 Sant'Ande 11 Greggio 17 Dursa 18 Elande 20 Edela 22 Dentro 25 Corpo 91 Le mani 91 Facile Anderatore Simisa Di Iron Man Grazie 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 Che confusione sarà perché ti chiamo E un'emozione che sale piano piano Sto vicino in parte e stai più vicino E chi non salta è proprio io il ventino La formazione del Milan Con il numero numero 9 Ciccio Con il numero 8 Gesù Con il numero 10 Con il numero 17 Con il numero 19 Ciccio Con il numero 20 Capitano Amate Con il numero 21 Luca Con il numero 22 Matteo Ciccio Con il numero 39 Luca Con il numero 68 Riccardo Modriguez Con il numero 79 Suave Gesù A disposizione per Milano Con il numero 25 Pepe 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 Con il numero 90 Antonio Donnarumma Con il numero 4 Jose Mauri Con il numero 7 Samuel Castiglieco Castiglieco Con il numero 11 Fabio Molini Con il numero 12 Andrea Conti Con il numero 14 Timur Accaiaco Con il numero 16 Andrea Bertolacci Con il numero 63 Patricio Con il numero 93 Diego Faccio Al numero 12 Ciccio E' un numero Accuso Al migra L'incontro Divento Si spettì Ragnarmi Scenone A scherza Al paneri Minton Grazie a tutti.